ben ritrovati a questo nuovo numero di dolomiti turismo è sì siamo in primavera a quest'oggi parliamo di parole di neve grazie al collegio nazionale maestri di sci abbiamo il nostro credito ospite il presidente luigi borgo ciao luigi grazie per aver accettato il nostro invito allora abbiamo parlato un po' quest'inverno della professione del maestro di sci e poi abbiamo approfondito la cosa alcune settimane fa con il responsabile veneto delle scuole sci Fulvio valt ma quest'oggi con te vogliamo concentrare questo nostro dialogo su un'iniziativa molto particolare ho detto parole di neve ecco siamo in primavera uno potrebbe dire vabbè il collegio maestri sci pensa altro e invece organizzate proprio qui a belluno nella casa del maestro questo ciclo di incontri immagino dal nome dedicate al mondo della neve ce ne vuoi parlare luigi quando abbiamo iniziato a pensare di avere una casa per i maestri di sci avevamo tre obiettivi il primo obiettivo era quello di fare una comunità cioè i maestri sci dovevano avere una casa che che potesse ospitarli per tutte le loro iniziative legate all'ente il secondo obiettivo era invece creare anche un luogo di pensiero e il terzo che andremo a progettare è quello di fare storia del maestro di sci cioè fare un museo dedicato ai maestri di sci che sarebbe il primo museo al mondo proprio dedicato alla nostra professione mercoledì scorso siamo partiti con questa iniziativa che è un ciclo di lezioni che dovrà durare per sempre e coprirà proprio tutto l'intero arco annuale con la sola eccezione ovviamente di agosto e ogni terzo mercoledì del mese ci riuniremo nella casa dei maestri per pensare lo sci perché non c'è azione senza idea senza concetto le le azioni che non nascono dalle idee sono delle azioni insensate e noi vogliamo che tutte le azioni dello sci siano azioni proprio pensate e quindi è necessario che ogni terzo mercoledì del mese nella nostra casa si approfondisca proprio la cultura e la passione per lo sci ecco grazie alla regia di simone tolotto vediamo nel corso di questo nostro dialogo anche alcune immagini quella che la casa del maestro proprio qui a borgo pra un luogo molto bello recentemente ristrutturato è una casa antica che avete appunto effettuato molti lavori per riportarla alla luce è aperta anche il pubblico luigi assolutamente sì tutte le nostre conferenze sono aperte al pubblico e anche abbiamo chiesto alla nostra regione che queste conferenze siano riconosciute anche come aggiornamento professionale perché il livello di queste conferenze sarà sicuramente alto e molto qualificato la casa è assolutamente bella io ho ancora le immagini della prima volta in cui sono entrato e non era ancora nostra quell'edificio e non è semplicemente una casa è proprio un complesso un complesso che sorge lungo la sponda dell'ardo ed è un luogo magico ed è un luogo anche ricco di storia perché nel quindicesimo secolo era un'antica spaderia noi abbiamo ancora proprio le pietre con le quali insomma si lavoravano i ferri è una spaderia della repubblica di venezia poi nell'ottocento è diventata anche un un opificio dedicato alla pelle e negli anni successivi un'occhialeria un luogo dove si producevano giocattoli e infine anche una fallegnammeria e poi dal 1980 francesco de luca ha realizzato il suo sogno quello di trasformare la casa nella sala de luca che è stata la prima sala diciamo culturale della città di belluno in quel luogo hanno parlato veramente le persone più importanti del tempo e c'è stata rita levi montalcini nel 2003 quando aveva già conseguito il diploma e il il premio nome l'aveva già preso il premio nobel e poi due presidenti del consiglio prodi ed alema molti alti prelati e grandissimi poeti zanzotto luci scrittori sgorlonna mario bonisterna cioè è stato veramente un luogo di pensiero quella casa lì e deve continuarlo a esserlo con noi proprio dedicando i nostri pensieri allo sci alla montagna invernale ma non parleremo soltanto di sci parleremo proprio di degli argomenti più vari però sempre con una prospettiva che è quella di chi scivola sul mondo ecco noi in effetti grazie le tue parole abbiamo compreso ciò che magari per chi lo vede dall'esterno maestro di sci potrebbe essere un lavoro piuttosto statico dal punto di vista noi vediamo il maestro che insegna agli allievi poi grazie a rivederci invece la cultura mi sembra che sia fondamentale per un maestro di sci non soltanto nell'ambito della neve e del settore sciistico ma nell'ambito proprio di tutta la montagna e il mondo alpino in generale allora questi incontri che sono iniziati mercoledì ci puoi dare qualche anticipazione sarebbe lunga non non ti chiediamo chiaramente tutti i vari relatori di questi incontri ma avremo cosa potremmo vedere chi potremmo ascoltare alla casa del maestro beh innanzitutto delle persone prime del nostro del nostro settore volevo prima di parlarti delle persone che verranno volevo dirti che noi siamo operatori turistici noi siamo vigilati dal ministero del turismo turismo nell'accezione proprio del termine cioè da tour cioè da giro da viaggio e lo sci è una tecnica di locomozione terrestre principalmente attraverso la quale poi si pratica una disciplina sportiva ma quel turismo significa proprio andare nella montagna invernale che è inaccessibile senza gli sci ma con questi strumenti si riesce proprio a conoscere ea vivere quindi la montagna invernale lo sci è nato proprio come strumento culturale nella le antiche popolazioni del nord riuscivano a raggiungere villaggi che altrimenti sarebbero stati irraggiungibili senza l'uso degli sci proprio con questi con questi strumenti e arrivando i nuovi villaggi si conoscevano persone e attraverso loro anche il loro sapere e quindi c'era uno scambio proprio culturale quella cultura di chi arrivava e la cultura che invece veniva offerta da chi invece riceveva la persona che raggiungeva il villaggio con gli sci e quindi voi con parole di neve volete portare quindi questa cultura beneficio dei maestri sci ma non solo quindi torniamo così anche noi comuni cittadini potremmo venire assistere a qualche cosa di importante e interessante nell'ambito della montagna non soltanto dell'inverno ma della della cultura appunto e di una conoscenza della montagna gli appuntamenti saranno a cadenza fissa luigi oppure assolutamente fissa ogni terzo mercoledì del mese ci sarà una conferenza presso la nostra casa e gli appuntamenti sono quelli già fissati saranno fissati di tre mesi in tre mesi per cui anche tutta la comunità sarà tempestivamente informata il prossimo è quello di giugno sarà tenuto dal professor massimo masi dell'università di padova il quale ci parlerà del cambiamento climatico e della e dell'energia del prossimo futuro proprio da una prospettiva sciistica e alpina però il tema è assolutamente interessante anche perché il tema è quello il cambiamento climatico si scierà in un futuro non si sa se prossimo più avanti sotto i due neometri qui ci sono varie no correnti di pensiero chi dice che grazie alla tecnologia si potrà innevare anche abbondantemente una temperatura superiore a zero chi invece dice no insomma sarà interessante approfondire anche questo ci fai capire quindi che interessa anche noi non soltanto i maestri sci ma a tal proposito tu sei anche presidente veneto e collegio maestri sci a questo appuntamento sono presenti saranno presenti invitati e chiamati solamente i maestri sci del veneto oppure anche in ambito nazionale luigi no chi vorrà potrà partecipare anche i maestri sci che non sono veneti cioè è aperta a tutta a tutti i maestri sci italiani e anche ovviamente come abbiamo detto prima la comunità di belluno e volevo anche ricordare il terzo mercoledì in programma quello di luglio che sarà tenuto dalla dottoressa valeria ghezzi che è il presidente anef di tutti gli impiantisti tutti gli impianti italiani ed è molto importante questo perché ci presenterà proprio l'industria dello sci e l'industria dello sci è assolutamente necessaria per il turismo invernale è la ragione prima per cui una persona sale in montagna in quella che apparentemente dovrebbe essere la stagione più difficile ma grazie al sistema impiantistico è anche la stagione più bella hai parlato di industria effettivamente per il numero di addetti per la mole di investimenti insomma specie nei dolomiti bellunesi una vera e propria industria questo delle volte non viene recepito da un normale sciatore vede gli impianti ma tutto il lavoro che c'è dietro gli investimenti sono evidentemente rilevanti prego mi piace e mi piace sottolineare che è un'industria assolutamente green assolutamente ambientalista con una grande cultura del territorio perché è veramente un modello industriale quello della degli impianti italiani anzi adesso c'è anche il tema no degli spostamenti anche stivi l'utilizzo degli impianti alternativi anche all'uso dell'auto per contrastare l'inquinamento il traffico nei passi dolomiti ci senti luigi la casa del maestro in prospettiva olimpico quindi un punto di riferimento per il veneto credo senz'altro perché logicamente no sono certo c'è il momento olimpica voglio dire come avete già pensato immaginato abbiamo una serie di progetti che vorremmo realizzare proprio mettendo belluno al centro e quindi la casa dei maestri al centro di questo periodo straordinario storico che stiamo per iniziare anzi lo abbiamo già iniziato con i mondiali e si colmerà si concluderà con le olimpiadi è un periodo assolutamente unico che noi dovremmo vivere con grandissima intensità e con grande emozione mi piace anche il fatto che voi avvicinate anche la popolazione l'abbiamo capito attraverso due parole la casa del maestro non è soltanto la casa dei maestri di sci ma può essere anche un luogo per per tutti insomma sì è vero con me ci sarà anche il assessore raffaele a damiano e l'assessore alla cultura perché racconterà quella che che è stata la storia di quella casa nel nel tempo passato e noi già da tempo abbiamo offerto a varie associazioni del territorio la nostra casa per fare cultura per proprio far sì che insomma e si continui a pensare anche a ricordare ad esempio grandi bellunesi come di nobuzzati è certo luigi siamo quasi in conclusione possiamo trovare il calendario immagino sui siti internet sui social agevolmente no assolutamente sì quindi parole di neve questo appuntamento presso la casa del maestro a borgo pra beh allora abbiamo capito che in realtà il maestro isci non è che in primavera estate non faccia niente ma c'è un attività di formazione costante continua anche per attrarre giovani luigi certo la neve si scioglie a un certo punto ma noi continueremo a pensare la neve e allora parole di neve grazie a luigi borgo per essere intervenuto grazie luigi e buon lavoro grazie claudio grazie a voi tutti grazie per la gentile attenzione arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti grazie a voi grazie a voi